In questo video vi parlo delle racks che sono una delle funzioni che adoro tantissimo di Ableton e che ci permettono di ottimizzare il workflow quando siamo in base di produzione. Che cosa sono le racks? Semplicemente sono delle catene di plug-in che dobbiamo distinguerle però in due categorie. Abbiamo gli instrument rack che sono composte da un'istanza di plug-in instrument, insomma una catena di plug-in effetti. E poi abbiamo gli audio effect rack, sono essenzialmente le catene di plug-in effettistica come equalizzatori, compressori eccetera eccetera. Come si creano le racks? Beh è molto semplice, consideriamo di avere un'istanza di vital con questo basso e vogliamo nel caso metterci la distorsione. Ok ci piace, teniamo premuto shift, selezioniamo con il clic sinistro le due istanze, facciamo ctrl g oppure command g se siete su mac e abbiamo creato la nostra instrument rack. Clicchiamo sul pulsantino del floppy disk, per salvarlo scriviamo il nome del nostro preset, lo salviamo e ce l'abbiamo pronto all'uso per i prossimi progetti. Questo invece è un esempio di audio effect rack, come potete vedere è composto semplicemente da plug-in effettistica, abbiamo un denoiser, un equalizzatore, un OTT e un DS in questo caso. Ma è un rack che ho creato io per avere un buon punto di partenza sul processing della voce, nel caso di voci parlate essenzialmente. Se volete nel caso questo rack e tanti altri rack che ho creato io personalmente, nel mio store di Gumroad, che trovate il link qua sopra, ho creato un pacchetto di racks che potete utilizzare comodamente su Ableton Live in versione standard o suite. Spero vi sia piaciuto questo contenuto, spero vi sia stato utile e nel caso lasciate un bel mi piace e seguitemi per altri contenuti.